E' stata presentata dalla consigliera regionale dei 5 Stelle Marta Ruggeri un'interrogazione che vuole fare chiarezza sulla complanare dimenticata di Fano. La Ruggeri ha ricordato anche l'importanza di chiarire quelle che sono le prospettive dello svincolo Fano Nord. Ho protocollato un'interrogazione perché si è discussa in consiglio regionale per avere risposte definitive da parte dell'assessore competente in relazione alla questione della complanare dimenticata di Fano. Perché da un accesso agli atti fatto dai consiglieri 5 Stelle di Fano è emerso che dal 2006 dalla conferenza dei servizi per compensare le opere della terza corsia che si sarebbero realizzate nel nostro territorio si sarebbero dovute realizzare oltre alle bretelle che poi effettivamente sono state realizzate anche il casello di Fano Nord e soprattutto una complanare. Quindi nel casello di Fano Nord come sapete non se ne è fatto niente perché è stato bocciato dal Ministero dell'Ambiente, dalla Soprintendenza, in ultimo il Comune ha fatto un ricorso al TAR che ha perso. E la complanare invece che riguardava la messa in rete di più enti, quindi non solo Comune Autostrade ma anche altri enti, è finita nel dimenticatoio. Mentre a nostro avviso sarebbe stata una buona soluzione per il collegamento tra Fano e Pesaro, anche sicuramente più sostenibile dal punto di vista ambientale rispetto alla cosiddetta variante Gimarra. Quindi naturalmente vorremmo vederci chiaro e le domande che ho fatto all'assessore spero che abbiano risposte veramente definitive visto che la questione del Comune di Fano è stata trascurata e soprattutto trattata in un modo veramente che dimostra un pasticcio e di questo pasticcio a pagarne le conseguenze come al solito sono i cittadini della nostra città.